Nell'ambito della terapia del linfoma di Hodgkin, sicuramente i checkpoint inhibitors, questa nuova classe e i farmaci innovativi, rappresentati tra questi dal Pembrolizumab, stanno riscuotendo un successo importante nell'ambito della terapia del linfoma di Hodgkin, il reclutere frattare, cioè un paziente che ha fatto le classiche linee di chemioterapia convenzionale, il antautologo e anche il Brentuximavedotin, l'anticorpo tra conioghete e l'anticid 30. Il Pembrolizumab è un farmaco che ha dimostrato sia nella fase 1, nel K-NOT 013 e nell'ambito dei tre cohorti, incluse nel K-NOT 087, che è il fase 2 registrativo, che ha portato all'indicazione ufficiale del Pembrolizumab sia a livello FDA che a livello EMA, dei risultati veramente importanti nel setting dei pazienti con linfoma di Hodgkin ricadute di riflattare, con un rate di risposta completa variabile tra il 20 e il 25% e un overall response rate tra il 65 e il 70%. E sono risposte che tengono nel tempo, adesso al prossimo congresso ASH, che si trarà a San Diego nel prossimo dicembre, ci sarà un update a due anni dello studio di fase 2, il K-NOT 087 e veramente avremo un'idea più precisa di quella che è la durata della risposta nei pazienti, soprattutto che ottengono la risposta completa. E questo è un po' il problema di noi ematologi, cosa fare nel paziente che ottiene una risposta completa utilizzando il Pembrolizumab. Continuiamo il trattamento fino ai due anni, oppure antilse progression, oppure un paziente in cui c'è da cogliere l'attimo fuggente e fare un consolidamento col trapiantologenico. Sono tutti concetti importanti che potranno avere una risposta definitiva solo con un outcome, con un follow-up più lungo. Ed è per questo che dicevo il dato a due anni che sarà presentato nei prossimi sei mesi a San Diego ci potrà dire qualcosa di più da questo punto di vista. Il Pembrolizumab è un farmaco ben tollerato, ben maneggevole, senza problemi di tossicità infusionale, non ha tossicità ematologica, ha una lieve tossicità estrematologica rappresentata soprattutto da un quadro autoimmune che può essere rappresentato da ipo, iper, tiroidismo, colitis, pneumonautis, però nella maggior parte dei casi sono di grado 1-2, reversibili con basse dosi di cortisone, comunque è una percentuale che non supera il 5-7%. Ci sono dei risultati importanti per quanto riguarda il ruolo di Pembrolizumab single agent anche in un linfoma non-Hodgkin, in particolare il primer mediastino, l'abysel linfoma, l'informa primitivo del mediastino, risultati che avevamo pubblicato l'anno scorso su Blad nel fase 1 con una overall response rate del 40-45%, una risposta completa intorno al 15%, in pazienti ricaduti e refrattari con informe primitivo del mediastino che come sappiamo è un reale un-man medical need perché qualsiasi chemioterapia di salvataggio di seconda o terza linea, anche il trapianto autologo allogenico non forniscono alcun tipo di risultato positivo. E sulla base di questi dati importanti del fase 1 che abbiamo pubblicato come dicevo l'anno scorso su Blad è partito anche un fase 2 che abbiamo chiuso, abbiamo presentato i dati preliminari a Lugano l'anno scorso e i dati definitivi saranno presentati al prossimo a Schmitti, ma circa un mese fa, esattamente il 13 giugno, l'FTA ha dato l'indicazione ufficiale per l'utilizzo del penbolismo a single age, negli informi primitivi del mediastino ricaduti a refrattare la terapia convenzionale. Questo è un altro punto importante per quanto riguarda il ruolo in termini di efficacia e di buon safety profile per quanto riguarda l'utilizzo del penbolismo a single age. Grazie. Grazie.